salve a tutte ragazze ragazzi benvenuti bentrovati siete nel mio messaggio del giorno per voi io sono zahira e siamo nel nostro consueto appuntamento mattutino allora andiamo subito a fare l'elenco delle carte però vi voglio prima ricordare che ho messo la tempistica per tutte coloro che non hanno voglia tempo pazienza di aspettare la scelta delle carte che avviene rigorosamente davanti a voi e allora ho pensato di mettere questa tempistica e quindi andate a vedere stavolta non l'ho dimenticata e l'altra volta l'ho dimenticata va bene ragazze quindi vi faccio l'elenco per chi rimane con me abbiamo le carte gialle di zahira abbiamo i king dell'amore i tarocchi napoletani abbiamo gli unicorn moon tarot abbiamo i tarocchi rider white abbiamo i tarocchi solarcani maggiori moderni solarcani maggiori tarocchi della zingara i tarocchi piemontesi e le carte di elen allora io inizio come sapete a mischiare subito insomma la scelta vediamo se si rigira qualche carta mi pare che si è rigirata una carta no non si è rigirata e poi sapete se non esce subito poi la prendo io perché già insomma questi messaggi vengono abbastanza lunghi e quindi ops oddio mio qua che stava succedendo ok allora quindi ragazze come state io spero bene spero che vi vada bene tutto ciò che desiderate sì stiamo vivendo un po una stagione altalenante questo è voluto uscire la prendiamo nel senso non si capisce bene se siamo in inverno in autunno in primavera non lo so non lo so e questo un po questo questa meteo che non va come dovrebbe andare porta anche parecchio disturbi nell'umore quindi insomma se vi sentite un po scocciate un po così un po tristi depresse è a causa che non 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 così non sboccia questa primavera estate comunque speriamo che almeno questa situazione vada a migliorare poi per quanto riguarda le nostre stese e sapete che qui in questo messaggio che io faccio tutte le mattine da ben due anni un impegno molto molto pesante pesante nel senso non pesante che mi pesa pesante per l'impegno perché tutte le mattine devi postare il video devi fare la scelta devi insomma comunque sapete io non lo interrompo mai così mi è venuto di fare di impeto e così voglio continuare a farlo ora l'altra volta ho detto che avevo visto un calo nelle visualizzazioni e che se era il caso se continuavano questo calo di visualizzazione di aver preso in considerazione anche l'idea di sospenderlo per un po oppure addirittura di sospenderlo per sempre o di dimezzarlo così farlo magari non tutti i giorni in giorni alternati cosa del genere ma era soltanto un pensiero ma ma non perché come mi ha scritto una mia carissima iscritta perché mi voglio lamentare non sono proprio il tipo da lamento sinceramente ma semplicemente perché è normale che se io ho un impegno così gravoso tutte le mattine a natale a pasqua l'epifania cioè io non interrompo mai da oltre due anni è chiaro che devo avere anche una sorta di risultato perché se io non lo posso fare per una manciata di visualizzazioni ci deve essere un giusto equilibrio anche perché io fa acqua sono uscite le carte le prendiamo tutte altre perfetto perché insomma questi interattivi devono poter coinvolgere interessare più persone se no il quando io dico la candela e lo sforzo non vale la candela insomma nel senso che se poi non ci sono questi riscontri è inutile che io lo faccio e spreco tante energie posso fare anche io tante altre cose diverse anche a livello lavorativo quindi non era un lamentarsi era una constatazione di quello che io penso di avere diritto di decidere cosa e cosa non voglio fare no e mi sembra ovvio quindi mi dispiace che poi queste mie sono una io che dico sempre ciò che penso soprattutto vi faccio sempre partecipe di tutto quindi se io dico questo non è che lo dico per lamentarmi lo dico semplicemente per avvisarvi che se questo messaggio continua a calare per il momento va ancora bene benino ma se continua a calare io non lo farò più mi sembra ovvio che faccio un messaggio per due tre persone faccio un esempio quindi è chiaro che non avrà più senso farlo ho detto questo siamo arrivati all'ultima carta quella dell'indicazione piccolo break per chi va avanti al video eccoci qua benvenuti anche a voi che si tratta siete andati avanti nel video e quindi siete qui alla lettura dei tarocchi usciti allora vi faccio l'elenco vi dico anche le carte uscite le mie carte gialle di zaira dicono sei la mia donna ideale il king dell'amore viene il king numero 36 ming l'oscuramento della luce i tarocchi napoletani ci parlano o ritorno quindi qua c'è un ritorno in mezzo ora i tarocchi unico mon viene fuori la regina di coppe ancora il rider white viene la carta dei ricordi il sei di coppe però capovolto la carta del mago nella nelle i tarocchi moderni solo arcani maggiori e la giustizia nei tarocchi della zingara i tarocchi della piemontesi viene la carta del carro poi sono uscite sapete fino a tre io le prendo sono uscite da sole vedete queste tre carte negli oracoli di elen fissazioni maniacali utilizzo di sostanze di fioribac quindi qua qualcuno non sta bene emozioni forti e qua c'è qualcuno che fa messaggi vedete chat fa storielle con qualcuno di sessualità virtuali d'amore di sentimenti di emozioni insomma qua qualcuno non ce la racconta bene detto così così le vedete tutte allora ragazzi andiamo a vedere un po intanto questa persona dice se la mia donna ideale e vabbè ci butta un po di fumo negli occhi perché qua mi viene tanto una persona che butta il fumo negli occhi perché se qua ci sono questi messaggi a sfondo sessuale queste emozioni e qualcuno qui non sta bene e questa carta ci parla di rapporti segreti tradimenti smascherati qua nonostante questa persona vi fa credere di essere la vostra di essere voi la sua donna ideale questa persona qui è un manipolatore traditore proprio bello ve lo dico proprio è perché vedete rapporti segreti tradimenti smascherati quindi qua c'è stato c'è un qualcosa virtuale vedete che ha in qualche modo con questa carta del sedicop e capovolto che ci parla appunto di un qualcosa che è venuto a mancare no qui un sentimento un amore un coinvolgimento molto alchimico no perché comunque nel sedicop e sono anime gemelli incontri elettivi e con il bagatto che è sempre una persona vedete che è artefice un po con astuzia è abile in amore un buon affabulatore sicuramente qua potrebbe essere un marito perché no un legame stabile perché abbiamo la giustizia quindi però voi con questa carta adesso avete la capacità di opporvi al male quindi qua ci sarà una riuscita una felicità sicuramente allora questa persona vedete ritorna qui c'è stato un allontanamento eh questo è poco ma è sicuro no più che allontanamento io direi uno smascheramento qua sono stati scoperti dei tradimenti quindi c'è stato l'oscuramento della luce ok qua questa persona viveva dei messaggi delle situazioni a sfondo sessuale a livello social e magari a voi vi diceva se la mia donna ideale quindi voi siete proprio caduta in non dico disgrazia ma quasi perché qua i fiori di bac e quando una persona va in depressione va anche in una sorta di panico di ansia non si dorme la notte e quant'altro perché perché voi siete la regina di coppe comunque siete innamorati di questa persona eccola qua quindi voi siete qui messa messa magari chissà quante ne avete sopportate perché la regina di coppe è anche una donna che per amore si sacrifica per i figli per la famiglia per il quieto vivere quindi qua voi magari qualche altra volta vi sarete pure un po diciamo avete fatto forse finta di nulla no perché qua una carta del carro la vedo quindi voi pur di riuscire pur di far funzionare questa situazione di avere un equilibrio nella vostra famiglia magari avete fatto dei progressi insomma avete cercato di tenere sempre questo legame con equilibrio solido come se fosse una cosa giusta fare questo per voi però a un certo punto qua la situazione è degenerata vedete in questo ritorno perché questa persona che in qualche modo si è comportata così ha intenzione di ritornare attenzione perché questo è un manipolatore però vedete qua troverà pane per i suoi denti perché vedete in questa carta o ritorno ulisse son golisse sottornata qua torna un amore e va bene però vedete quando torna questa persona e penelope la trova incinta con due bimbi quindi qua può anche darsi che questa volta il rientro all'ovile nonostante vi possa dire sei la mia donna ideale sei la donna della mia vita e quante altre cavolate vi può far credere questo ambiguo bagatto che agli elementi è abbastanza furbo assuto affabulatore che può convincervi però qua mi sa tanto che stavolta voi non vi fate convincere perché siete stufe e probabilmente magari quando ritornerà per l'ennesima volta se già non l'ha fatto ha trovato voi che già vi siete in qualche modo consolate ora non è detto che per forza avete intrapreso un'altra relazione ma magari avete deciso di voltare pagina perché no quindi questo era il messaggio quindi la quello che vi vuole dire questo messaggio è che tutto sommato se voi avete fatto questo avete fatto bene perché questa persona è altamente ambigua vedete qua abbiamo il sedi coppe capovolto quindi qua questi questo sentimento che lui magari dice sei la mia donna ideale la donna che conosco da tanto tempo dice cavolate lo fa per agguantarvi nuovamente perché sa che voi comunque siete innamorate o comunque lo siete state quindi qua c'è l'oscuramento della luce voi avete scoperto questo tradimento avete smascherato questi questi rapporti questi messaggi queste cose così e adesso non ne volete più sapere ok ora sapete voi se volete ancora ricucire questa situazione ovviamente siete voi uniche e solo arbitri della vostra delle vostre decisioni con il libero arbitrio ragazze io vi saluto vi ringrazio vi do un bacione enorme vi do appuntamento a domani mattina mi raccomando non mancate vi aspetto nei commenti fatemi sapere riscontri e soprattutto vi auguro una giornata piena di situazioni belle positive scacciate via i fantasmi del passato guardate al nuovo alle novità alle cose belle che vi possono accadere se lasciate da parte le cose brutte alle spalle un bacione enorme dalla vostra Zaira ciao a tutte